Le ragazze non sanno videogiocare, giusto? E intanto una streamer abbattuto malenia di Elden Ring giocando contemporaneamente su PS5 e PC con un dancepad. Miss Mika, questo è il suo nome, ha utilizzato le mani per controllare il DualSense e il proprio alter ego su console, mentre i piedi per impartire ordini all'eroe interpretato su PC con l'ausilio di un dancepad. Per chi non lo sapesse, il dancepad è una sorta di tappeto controller reso famoso da Rhythm Game come Dance Dance Revolution. È suddiviso in tanti quadranti, ciascuno dei quali ha sotto un pulsante da premere con i piedi. Quindi che ha fatto lei? Ha rimappato tutti i pulsanti della tastiera mettendoli sul dancepad. Però non è che le bastava questo, poi ha giocato Elden Ring in contemporaneo su PS5 e su PC con mani e piedi. Chiaramente in simultanea, non so se è chiara questa cosa. Ci ha messo esattamente 3 giorni e 199 tentativi e ha avuto un'ultima cosa da aggiungere. Radagon, ora tocca a te.